Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Il Tribunale del Riesame dell'Aquila ha accolto il primo dei dieci ricorsi depositati dai legali dei polizzotti della stradale di Pratola Peligna, coinvolto nella maxinchiesta sui furbetti della divisa coordinata dalla Procura della Repubblica di Sulmona. Davanti ai giudici aquilani si è presentato uno degli agenti che era stato sospeso dal GIP per un anno e che dopo un mese di stop potrà tornare al lavoro. La richiesta di reintegro presentata dal suo avvocato, Augusto Lamorgia, del Foro di Pescara è stata infatti pienamente accolta. Sostanzialmente il Riesame ribalta la decisione dei magistrati sulmonesi in riferimento alla posizione dell'indagato. Il calendario dei ricorsi prevede altre tre udienze, l'11, il 14 e il 18 settembre. Le accuse a vario titolo sono truffa e falso ai danni dello Stato, peculato, furto, omissione d'atti d'ufficio, omissione di soccorso e interruzione di pubblico servizio. Per i difensori si tratta di un provvedimento generalizzato che non tiene conto nemmeno di alcune condotte episodiche contestate che in alcuni casi farebbero venire meno la continuazione del reato, secondo la tesi dei legali, che hanno eccepito anche l'eccezione preliminare della competenza territoriale. Per il Tribunale di Sulmona invece gli accertamenti investigativi hanno consentito di ricostruire la sussistenza di un sistema seriale di condotte attraverso le quali un gruppo di agenti della Polizia Stradale avrebbe anteposto in modo ostinato e reiterato il soddisfacimento dei propri interessi personali al diligente adempimento dei doveri istituzionali in pregiudizio dell'intero sistema di sicurezza, prevenzione e soccorso della viabilità sul territorio di competenza. In tre anni di indagini, svolte fino al 2022 tramite intercettazioni ambientali e telefoniche, GPS e telecamere, i poligiotti avrebbero abbandonato il posto di lavoro per dormire in auto o intrattenersi in alcuni esercizi commerciali mentre erano in servizio. Approfittando della propria posizione, tre di loro avrebbero anche rubato beni di tenue entità patrimoniale in una stazione di servizio. Altri avrebbero utilizzato auto di servizio per fini privati e sempre secondo l'accusa avrebbero messo di svolgere rilievi in un sinistro stradale e di prestare soccorso a un veicolo in panne.